Ciao a tutti, io sono Giada e sono qui con Emilio per parlarvi di Dungeons & Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy dal punto di vista dei nostri background, ma oggi siamo qui per parlarvi di Dungeons & Dragons, l'onore dei ladri, il film di Dungeons & Dragons uscito recentemente nelle sale e che io e Giada abbiamo avuto l'occasione di vedere in anteprima. Sì, grazie all'invito di Mondadori, libri per ragazzi, che se ricordate ci aveva già inviato il libro di Dungeons & Dragons uscito appunto per i ragazzi e che questa volta ci ha invitato a vedere il film in anteprima al Cinema Anteo di Milano. Avremo una sezione senza spoiler iniziale, così se non l'avete ancora visto potete seguirla e vi daremo un avviso, magari anche sonoro, mettiamo un po' lo... Sì, beh, secondo me dopo il... Sì, lo diciamo e poi dopo il segmento pubblicitario, esatto, parte la sezione degli spoiler. Ma prima di lasciarvi alla recensione del film di Dungeons & Dragons vi ricordiamo un paio di cose. Innanzitutto vi ricordiamo che saremo presenti il 19, 20 e 21 maggio al Play di Modena. Se non avete ancora preso i biglietti potete farlo tramite il sito del Play e i nostri vari eventi che saranno distribuiti in tutte e tre i giorni invece potete seguirli attraverso i nostri canali social, in particolare Giada di Ruolo su Instagram, dove vi ricorderemo spesso che cosa faremo ai vari giorni e dove dal 15 aprile ci sarà il link per Eventbrite, per prenotarsi, perché sono gratuiti ma sono comunque a numero chiuso. E poi vi ricordiamo che c'è un viaggio in Irlanda da organizzare, quindi se avete voglia di scoprire l'Irlanda, di giocare di ruolo e di partire con me e Viola e nel caso in cui dovessimo raggiungere il numero di 12 partecipanti anche con Emilio, potete iscrivervi al link che vi lasciamo in descrizione. Ma prima di passare al film vi lasciamo alla sigla dei Supernova Collective. Mentre salite ai gradini della torre che scricchiore geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago, ma questa volta sono due. E hanno un microfono. Ho trovato il film estremamente gradevole. Sono partito con delle aspettative mediocre, ma perché appunto, dicevo, è un primo tentativo di film su Dungeons & Dragons dopo anni che non se ne tentava uno. sono. Quindi ero molto, molto sereno. Sono intanto ne sono uscito divertito. Di certo meglio degli ultimi film Marvel che sono andato a vedere direttamente al cinema. C'è un profondo rispetto della source originale di Dungeons & Dragons. Doppiaggio di altissimo livello, ma Stefano Crescentini può doppiare quello che vuole, io sono contento. Secondo me è un film molto onesto, molto divertente. L'ideale, secondo me, è nella fascia 10-20 anni. Se tu, come noi, quando eravamo giovani ci guardavamo Dragonheart o roba del genere e ci lavoravamo del fantasy, i ragazzi di oggi con questo si possono prendere bene. È proprio un film carino, senza pretese, beh, basta. Non ho altro da dire. Mi rimetto alla corte. Mi è piaciuto tantissimo, finalmente qualcosa di fatto bene, pieno di citazioni, easter egg, un sacco di divertimento, un sacco di scene tristi, ma anche tante, tante risate. Quindi assolutamente consigliato. Allora, eccoci, direi che per un profano come me che non ha mai giocato a D&D, devo dire che è un film divertentissimo, dove si coglie comunque lo stesso l'essenza di auto, come dire, prendersi in giro, no? Questa cosa l'ho colta fin dall'inizio e la cosa che mi è piaciuta tantissimo è il cast, azzeccatissimo. È difficilissimo magari trovare un cast corale così importante, però devo dire che erano perfetti tutti quanti azzeccati e non avevo idea di cosa avrei visto e ho riso tantissimo. Quindi devo dire che, uscito dal film a caldo, un film divertentissimo che piacerà a tutti tantissimo, tantissimo. A me è piaciuto. Secondo me hanno rispettato un po' il sentimento del gioco al tavolo, secondo me. Alcune cadute di stile qua e là sulle meccaniche, però non me l'aspettavo dai. Cioè non mi aspettavo che rispettassero le meccaniche. È bello, torna l'Armata delle Tenebre e mixica i Guardiani della Galaxia, Galaxia con la X. È bello, è bello. Mi piace a tutti, piacerà anche mia moglie, non devi essere super nerd per vederlo. Diverte e a me è venuta voglia di masterizzare. Funziona, funziona. Simpatico, mi ha fatto delle idee. Non lo so Giada, non ci ho pensato abbastanza. Mi è piaciuto molto perché secondo me simula perfettamente quello che succede durante le sessioni di D&D. Cioè ha mescolato bene l'epica che però in realtà poi è una partita tra amici in cui si ride e si fa gli stupidi. Per cui da quel punto di vista secondo me il tono era quello giusto. Allora, abbiamo un discorso da fare prima di iniziare. A me il film non è piaciuto. A me invece sì. Penso di essere l'unico nella sala a cui non è veramente piaciuto, però c'è una distunzione importante da fare. Quando guardo un film o leggo un libro, a meno che non mi prenda tanto dai primi momenti, quello che inizio a guardare è più come è strutturato, come è costruito, cosa vogliono esprimere, quindi un po' al lato tecnico della sceneggiatura soprattutto. Quindi il fatto che non mi sia piaciuto non vuol dire che di per sé è un brutto film. Vuol dire che un po' non è il mio genere, perché sono un po' stanco dei film alla Marvel, sempre umoristici, sempre comici, che non prendono mai sul serio il loro materiale. Dall'altro lato mi sono divertito comunque, cioè durante soprattutto il secondo atto ho riso un sacco. Quindi non vuol dire che sia un brutto film, non vuol dire che vi dica no, non andate a vederlo, però ci sono un po' di cose che mi hanno infastidito abbastanza da essere particolarmente innervosito quando sono uscito. Adesso che ho passato già un po' di tempo mi sento un po' meglio con il film. Per me invece c'è stato un po' il processo contrario, nel senso che sono partita con delle aspettative bassissime, proprio perché come sapete i film della Marvel non sono il mio genere e dal trailer mi sembrava molto quello stile. Posso farti una domanda subito, poi ti lascio continuare? Ma i film della Marvel a te non sono mai piaciuti? Mai. Quando abbiamo visto anche i primi Avengers non ti piacevano? Mai. No, gli unici che mi sono piaciuti sono quelli di Iron Man. È come tutti penso, cioè che è quello che ha fatto, ha di fatto creato il Marvel Cinematic Universe. Poi tutto il resto non mi è piaciuto. Quindi sono partita con delle aspettative molto basse, mi sono divertita molto durante la proiezione del film e mi è piaciuto, cioè mi ha comunque lasciato tante impressioni positive. Poi nei giorni successivi, riflettendoci e scrivendo questo episodio, quindi anche soprattutto nella seconda parte che sarà quella con gli spoiler, quindi quella che ascolterete se ve lo siete già visti al cinema o tornerete ad ascoltare dopo averlo visto. O se siete come me e non ve ne frega niente ascoltate gli spoiler lo stesso. Ci sono un po' di cose che forse mi hanno fatto storcere il naso, ma appunto dal punto di vista della trama, della sceneggiatura e così via. Poi detto questo, sono sicuramente l'ultima esperta di film, cioè proprio per niente, nel senso che comunque non mi ritengo esperta né sulla regia né sulla sceneggiatura né su nulla. Perciò le mie saranno sicuramente semplicemente impressioni soggettive proprio a livello di pancia, cioè che cosa si è mosso e quindi come sempre quello che vi invitiamo a fare quando ascoltate le nostre recensioni di qualsiasi cosa... È prenderci come un template di un ascoltatore, no? Giada ha un tipo di... gli piace un tipo di cosa diversa da Emilio, quindi avete due versioni di cosa può piacere e voi sapete dove siete posizionati rispetto a Giada Emilio. Esatto, cioè se di solito ascoltate le nostre recensioni e vi ritrovate su alcune cose sapete anche poi che se abbiamo la stessa linea di pensiero... È lunga essa d'onda e quindi se... che è un po' come funzionano le review di tutti gli youtuber, non è l'esperienza che cerchi, è dire ti seguo da una vita, capisco cosa ti piace e quindi so ho una base per valutare. Quindi parliamo di Dungeons & Dragons. Allora, impressione generale, così proprio a caldo ma anche quella che è rimasta poi un po' nei giorni successivi. Come dicevo, il trailer non mi aveva ispirato, il trailer è uscito molto tempo prima, no? Sì. E era un periodo in cui io avevo bisogno di vedere fantasy epico, cioè mi mancava quel tipo di fantasy. Poi per fortuna ci sono state di mezzo alcune serie tv che hanno un po' nutrito... Il Signore degli Anelli e soprattutto House of Dragons, forse è quella che più ha nutrito in realtà per quanto mi riguarda. Avevo bisogno un po' di quel genere lì e quindi vedere invece D&D trattato in modo umoristico non mi aveva fatto impazzire come idea. In realtà poi una volta che quella parte è stata nutrita, come dicevo, mi ha divertito molto vedere al cinema invece questo film in particolare. Secondo me, in realtà, è stata una scelta vincente quella di scegliere un tono comico. Sì, sono d'accordo. Perché se avessero scelto un tono epico sarebbe stato super cringe. Sì. E' super difficile anche a livello di produzione. Sì, possiamo subito sfondare una porta. Hanno scelto il tono giusto per rappresentare una sessione di Dungeons & Dragons. Assolutamente d'accordo. Su quello non ci piove. Tutte le scene che ci sono nel film, che funzionano meglio, che fanno più ridere, non fanno ridere perché è la battutina di Batman o di Superman o di Iron Man nel momento meno opportuno possibile, che spesso non c'entra niente con il tono che stai dando alla scena e tutto. Fa ridere perché pensi quante volte è successo anche a noi. Esatto. Quindi poi nella sezione degli spoiler faremo degli esempi di questa cosa. È praticamente un film meme. Cioè nel senso, è come se tutte quelle scene fossero i classici meme che vedi su D&D. Però è un film meme dal lato positivo del termine, alla John Wick, dove dici... Tu non l'hai visto, però l'idea è stupidissimo, gli uccidono il cane, e proprio i primi cinque minuti del film non accusatemi di fare spoiler, gli uccidono il cane e lui va ad ammazzare gente. Punto, no? Che è un po' il meme di io ti troverò, quello di Liam Neeson che cerca la figlia, no? Però qui è la stessa storia ma senza una motivazione, no? È ricco di momenti che citano quello che succede ai giocatori al tavolo, anche proprio nella struttura stessa del film. Secondo me riprende tanto quello che avviene nelle campagne di Dungeons & Dragons, cioè è molto autoironico rispetto al gioco. Perché se ci pensi la trama è molto lineare, cioè devono fare una roba e per farla potrebbero andare dritti a farla. No, infatti cioè la trama non è lineare, è che la trama non esiste in quel film. Aspetta, ok. Cioè non c'è un... non ha un senso. Aspetta, allora, però capito che cioè loro hanno una missione e potrebbero tirare una linea dritta. Sì. E andare direttamente a quella missione. In realtà fanno una serie di robe parallele che è esattamente quello che fa un party di D&D. A me questa roba gasa un sacco. A me questo è quello che non è piaciuto. Ok, invece secondo me funziona. Finché è rimasto a livello di scene e di battute, funziona. Il fatto è che non puoi presentare quello che succede a un tavolo in cui i giocatori non hanno idee, fanno le cose a caso al 90% del tempo, come un film. Cioè comunque stai impegnando due ore della mia vita, ti pago per vederlo, voglio che ci sia anche una storia. Non è un componente che si può evitare. Però ribadisco, non è un problema. C'è, dai. Dai, la storia c'è. Comunque una trama prima c'è. Ne parleremo nella situazione. Va bene. No, allora c'è il primo atto e il secondo atto che costruiscono una roba diversa da quello che succede nel terzo. Senza sviluppo dei personaggi. Ma è quello che succede nelle campagne. Sì, ho capito, ma no, no. Per me non è accettabile. Va bene. Poi ne parliamo. Assolutamente non è accettabile da degli sceneggiatori professionisti. Potevano fare la stessa cosa costruendo anche una trama. È fattibilissimo. È fattibilissimo. Cioè puoi fare la stessa cosa fatta bene, Vox Machina l'ha dimostrato. Cioè ha lo stesso, l'idea di andiamo un po' a caso, c'è l'idea di preservare come le storie e le avventure vengono fuori al tavolo, però nel complesso crea un arco narrativo che ha senso. Qui invece semplicemente, e secondo me infatti non è colpa, stavano simulando Dungeons & Dragons, ma è colpa, volevano fare un film della Marvel. Che dove le trame non hanno senso e dove i personaggi avrebbero potuto risolvere le cose nel primo momento. Il setup è il classico setup di un haste, ok? Però è fatto male. Manca una componente fondamentale degli haste che viene fatta dopo, quando ormai è troppo tardi. Ci sono tre haste di fila che non si capisce come mai. Di solito lei, il primo piccolo haste, il primo piccolo colpo che la gang fa è per farti vedere come funzionano assieme tutto. E qui invece no, perché dopo devo riformare un gruppo diverso. E poi non dico nient'altro, però se no entro negli spoiler. E proprio perché avevano le idee confuse su cosa scrivere, erano molto più bravi a scrivere scene comiche, piccole vignette comiche, quello sì. La regia a volte l'ho trovata un po' confusa, perché in generale è molto improntata sul seguire l'azione, quindi sia nelle scene appunto d'azione che nei combattimenti, e in generale è un tipo di regia che a me confonde, perché ho tanti problemi visospaziali e quindi mi disorienta. E in generale, boh, non penso, pur appunto non avendo assolutamente competenze a riguardo, però non mi è sembrata una di quelle regie che dici, wow, questa rimarrà nella storia. Cioè, è molto standard. E fa quello che deve fare. E tra l'altro soffre tanto del fatto che salta di palo in frasca tantissimo. Cioè non ha mai un luogo in cui si può sistemare, mostrare al pubblico che adesso siamo qui, e quindi puoi fare cose un po' più carine. Se ci pensi, non sono mai tornati nello stesso posto più di una volta, in tutto il film. Veramente ci sono duemila location in questo film. E quindi continui a muoverti da una location all'altra e dici, vabbè, devo soltanto mostrare quello che sta succedendo. Ma tra l'altro tutte queste location, secondo me, in realtà erano tutte... CGI? Sì. La maggior parte sì. No, vabbè, c'erano tanti... Quello è un lato positivo, che a me è piaciuto molto. C'erano tanti effetti pratici, gli animatronics dei Dragonborn, erano dei dragonidi, erano fenomenali. È vero, i dragonborn erano fatti molto bene. Ed è pratica l'effetto quello, fatti veramente. Non era CGI, così come la raccocca che c'è, alcuni dei mostri sono fatti veramente, alcuni dei tombe che si vedono a un certo punto sono fatte veramente. Non so se poi hanno usato green screen o quella nuova tecnica che hanno dei mega schermi in cui proiettano in tempo reale l'ambiente. Per quanto riguarda i combattimenti, invece, li ho trovati carini. Le coreografie dei combattimenti, secondo me, erano comunque interessanti e le colonne sonore che c'erano sotto ai momenti d'azione dei combattimenti, dietro le ho trovate azzeccate. Sì, e secondo me hanno fatto la scelta, che è un po' rischiosa sempre, di tenere gli attori in molti dei combattimenti, perché gli si vede la faccia. Quindi però dall'altro lato della medaglia, non essendo stuntment, non vanno fino al contatto, si vede che i pugni sono finti, si vede che un po' delle mosse non sono fatte proprio fino in fondo, però almeno se hai un collegamento emotivo con il personaggio. I dialoghi ovviamente sono principalmente comici per tutta la premessa che abbiamo fatto sul fatto che comunque sia un film che punta sull'umorismo e mi sembra che in generale anche quelli che partono seriamente poi alla fine sono tutti un setup per arrivare a una battuta che a volte magari è anche una battuta scontata, però in realtà ci sono dei momenti in cui dici ok vabbè ormai hanno fatto la battuta e hai riso e ti aspetti che sia finita lì e invece poi va oltre il dialogo ancora con altre battute o comunque con altri, con altri, cioè sì, o attraverso le scene con altri momenti che continuano a seguire quel filone lì, fino a diventare esilaranti nel senso che c'è stata proprio un escalation di risate in alcune scene da parte della sala e questo a me è piaciuto molto. Quella scena lì di cui stai parlando secondo me è fenomenale e effettivamente fa ridere sempre di più ogni minuto che passa, è scritta veramente veramente bene quella, con tanti piccoli dettagli. Io su questa cosa secondo me funziona molto bene la comicità, un po' per arrivare i personaggi e l'interazione tra di loro, molti si conoscono già, hanno della storia passata, quindi hanno un po' di questo chiacchiericcio tra di loro che ti crea le battute giuste, ma molto è anche che gli NPC, i personaggi non giocanti, gli altri personaggi sono proprio NPC, cioè lo percepisci che non hanno una storia, che sono lì messi al dungeon master per dargli informazione. In qualsiasi altro film mi starei strappando i vestiti e arrabbiandomi perché non hanno pensato ai personaggi secondari come personaggi e così via, qui obiettivamente Dungeons and Dragons funziona, cioè il fatto che siano tutti cartonati e poi faremo un esempio bellissimo sulla raccocra per esempio, tra l'inizio e la fine del film, che ci sta, è fenomenale come cosa perché l'avrei fatto anch'io come dungeon master, cioè è quello che fa divertire anche il tavolo, quindi quello funziona. Quindi? No, prima di passare alla sezione senza spoiler, perché ho sentito un quindi molto conclusivo da parte tua, è il world building. Secondo me il world building è fatto molto bene, è proprio Faerun. Oh, ok. Cioè avviene a Neverwinter, parte della storia, ed è Neverwinter. Io non sono così esperto e ho visto alcune critiche, però c'è l'orso gufo e l'orso gufo è molto orso gufo. C'è un drago ed è un particolare drago di un particolare setting, ci sono tante cose riconoscibili. La cosa che mi ha divertito di più è che c'è un easter egg di Critical Role, comunque fa parte del world building di Dungeons & Dragons in un certo senso, perché per 5-6 minuti, per una scena, continuano a parlare di questo incantesimo che fa sentire l'odore dell'erba tagliata. E l'incantesimo in italiano si sente meno, ma in inglese è proprio fresh cut grass. E l'attore che lo recita ha detto che è proprio voluto per rappresentare il personaggio di Sam Regal in Critical Role. Quindi tutti questi rimandi, queste strizzatine d'occhio, ce ne saranno una marea di cui non ce ne siamo accorti. Sì, ma anche un sacco di citazioni a personaggi famosi dei Forgotten Reams. Sì, esatto, si parla di Lord Neverember, si parla di qualcun altro che sbuca fuori, e c'è anche Mordekainen, esatto. E un sacco di altre cose, ma anche i Beholder, fanno tante citazioni a tante cose che chi ha giocato conosce. Che però funziona dal punto di vista del world building, che anche qui funziona meno in film come la Marvel, per esempio, perché è non sempre un universo condiviso e ti porta a pensare, ma ascolta, ma se sai che esiste quella gemma lì, perché non l'avete usata per risolvere questo problema? Ok? Invece qui è, sappiamo com'è D&D, sappiamo che per come è strutturata l'avventura, sapere che esiste un bastone più potente, sapere che esiste un mago più potente significa superare altre prove, e quindi in un certo senso tutti quei riferimenti hanno senso perché sai che non sarebbero gratuiti per il giocatore. Sì. E quindi funziona, è un'altra roba che funziona molto nel film. E per concludere questa sezione senza spoiler, consigliato o no da andare a vedere al cinema, per quanto riguarda me sì, non è un film da guardare per vedere una storia vincente, non è un film da guardare per vedere un fantasy epico, non è un film da guardare per avere una trama che vi piace, non vincerà Oscar, non vincerà Oscar, ma, e non rimarrà probabilmente nella storia della regia dei film, ma è un film da guardare per ridere, per passare la serata in compagnia con il vostro party, con il vostro dungeon master, e per vedere in che modo il mondo di D&D che voi giocate al tavolo viene trasportato sullo schermo, sul grande schermo, ed è sicuramente più divertente se lo guardate con delle persone con cui di solito giocate, perché vi continuerete a girare verso di loro dicendo, oh ma proprio come noi, oh ma proprio come è successo nella nostra campagna e così via. Ciao Sara e benvenuta su Due Draghi al microfono, grazie per aver accettato di rispondere da alcune domande dai lettori di Stibia. Sì, ma poche, come promesso. Sì, sì, va bene, prometto, prometto. Per rompere il ghiaccio una domanda semplice, raccontaci un po' di te, dove sei nata, dove sei cresciuta? Sono nata a Treiso in Piemonte, o almeno questo è quello che pensavo, e prima che la mia vita venisse stravolta studiavo in un liceo di Alba e nella maggior parte del mio tempo libero giocavo ai giochi di ruolo, di qualsiasi genere, anche se il mio preferito era e resta Dungeons and Dragons. Oh, qualcosa in comune dunque, dai, non sarà così terribile come intervista? Sì, vedremo. Vabbè, prima accennavi che la tua vita è stata sconvolta all'improvviso. Sì, e non so ancora se in meglio. Come ti sei sentita quando ti hanno raccontato la verità su chi fossi? Dobbiamo proprio parlarne? Dai, siamo qui per conoscerti meglio. Beh, chi vuole conoscermi meglio può comprare il romanzo, no? Di cui sei la protagonista, no? Sì, è vero. Ma ci sono aspetti che magari non sono stati scritti nel romanzo, no? Quindi possiamo approfondirli un attimo. Per esempio, come ti sei sentita quando ti hanno raccontato la verità su chi fossi? E va bene, prima rispondo, prima finisce sta piaga, ho capito. Come mi sono sentita? Beh, strana. Spaventata, innanzitutto. Cioè, ancora prima che incredula, spaventata. Ci ho messo un po' ad accettare la cosa. In fondo, ero solo una normalissima ragazzina di 16 anni. Nessuno si aspetta realmente rivelazioni di quel genere. Devo dire che a qualsiasi età non ti aspetti rivelazioni di quel genere, però... La vicinanza di Samuele e soprattutto quella di Paola mi hanno aiutato molto a superare quei momenti. E ora come va? Beh, è meglio. Anche se tutto quello che ho scoperto e il compito che ci attende hanno solo sostituito emozioni con altre emozioni. Quindi perché consiglieresti di leggere Stibia? A parte tutte queste emozioni represse che sento all'interno del romanzo? Beh, chi ha detto che lo consiglierei? Sara. È un segmento pubblicitario questo? Va bene, va bene. Lo consiglierei perché... perché parla di me. E io sono interessante, molto interessante. Cioè, lo sarei già senza i doni magici di cui sono dotata. Con quelli poi... Ok, va bene, smetto di torturarti prima che ti ricordi di usarli. E se volete acquistare Stibia di cui Sara è la protagonista, trovate il link in descrizione. Allora, adesso quindi stiamo... Questa gente posso parlare. Stiamo iniziando la parte con gli spoiler, perciò se non volete spoiler, non avete ancora visto il film, avete paura che questo vi rovini l'esperienza, vi invitiamo a ripassare dopo aver visto il film che ormai è in tutte le sale cinematografiche. Quindi andate a vederlo stasera e poi tornate qui domani mattina. Il mio segnale è scatenate l'Emilio! Io sono pronto per questa sezione. Allora, io mi sono preparata in questo modo questa sezione. Ho scritto punti a sfavore e punti a favore. Ok. Partirei con i punti a sfavore. Sì, tanto io sono un agente del caos, quindi seguo quello che dici e mi aggancio. Allora, prima cosa che non mi ha fatto impazzire, il party praticamente è come se fosse composto solo da umani. Sì, la tiefling ha le corna in un cerchietto. Esatto. Cioè si vede il cerchietto sotto le corna. Oddio, questa cosa non è notata. Io l'ho visto la prima volta che l'hanno fatta vedere e ho detto, ma perché? Ma perché? Non ha la pelle di un colore diverso, non ha gli occhi diversi, ha un cerchietto sotto le corna. Così come lo stregone, Simon, da quello che ho capito è un mezzelfo. È un mezzelfo, c'ha l'orecchietta a punta. Però anche lì, cioè, hanno loro due che sono gli unici due che non sono umani, in realtà hanno molto poco di non umano. Comunque non è fondamentale la specie, non si capisce, non si vede. È che però è un problema della costa della spada, cioè, obiettivamente è talmente blando il world building su queste cose nella costa della spada ormai che... Però, non lo so, mi è dispiaciuto che, ad esempio, non ci fosse, non so, un nano, un gnome, un halfling nel party, un dragonide anche. Già il party è composto quasi solo da umani e i due che ci sono che non sono totalmente umani comunque sono umani. Sì. In più questa cosa viene, secondo me, trasportata anche al di fuori. In pochissime scene ci sono specie non umane. Ed è un peccato perché in realtà i Forgotten Reams hanno una miriade di specie non umane. E gli unici che sono fatti bene, secondo me, in realtà, sono quelli che sono per metà animali. Quindi i dragonidi, come dicevamo prima, sono fatti bene, gli aracocra, i tabaxi, i tabaxi, la figo. Quelli sono fatti bene, ma, ad esempio, gli gnomi, che a un certo punto appaiono, in realtà, cioè, di fatto hanno preso un essere umano e lo hanno rimpicciolito e basta. E neanche nel modo intelligente del Signore degli Anelli, in cui era fatto tutto con prospettiva degli stuntman più alti, più bassi e così via. No, semplice, proprio, preso la CGI, diminuito l'attore, con proprio, sembra lo strumento di Photoshop, no, che fai i contorni e poi restringi, e messo lì nella scena. Ti fa vedere un po' una cosa che non si vede mai nelle campagne, cioè la difficoltà di vivere in una stessa casa in cui ci sono persone di così differenza, così differenti. Però di fatto sono umane e rimpicciolite. Sì, ecco, e riguardo a questo, e qua parte la mia vena critica sociale, in realtà a me quella scena lì non so se è piaciuta, perché di fatto stava semplicemente puntando tutto l'umorismo di quella scena sul fatto che ci fosse uno dei due componenti della coppia ad essere molto basso, appunto. Sì, ok. E visto che anche nel mondo reale esistono persone affette, ad esempio, da disturbi come il nanismo, è un pochino body shaming, così come potrebbe essere un pochino body shaming anche la scena del drago ciccione. Aspetta, però, nella scena in cui, perché parliamo della scena dove Olga, il barbaro del party, va a trovare suo marito, perché ha scoperto quando è uscita di prigione che suo marito l'ha lasciata e ha trovato un'altra donna e scopre che questa è ancora più, ha una stazza ancora più grande, probabilmente sembra una mezza gigante o qualcosa del genere, da come viene ritratta per quelle poche scene. Io non l'ho trovata così fastidiosa perché non è una generalizzazione sul mondo dove ti dicono tutti gli ignomi piacciono le donne alte. No, non è quello che dico. Ti fa vedere che quell'uomo... cioè, tutta la battuta non è su una differenza di proporzioni, è sul fatto che a lui piacciono le donne più grosse di lui. Non lo so, cioè, nel senso, se ci pensi, tutta l'inquadratura era fissa e riprendeva loro due nella differenza d'altezza. Eh, sì, ma perché era divertente per la loro relazione, che lui fosse più maturo di lei anche essendo più piccolo. Sì, però, cioè, boh, di fatto, se ci pensi, alla fine quella scena serve praticamente solo, perché è vero che poi gli dà il bastone, ma avrebbero potuto trovarlo in qualsiasi altro modo, quel bastone. Quindi, di fatto, è tutta una scena costruita soltanto su quanto sia divertente questa cosa. Può essere quello che dici tu, cioè, ovviamente dipende anche dalla sensibilità. Nel momento, ripeto, sono cose che nel momento in cui stavo guardando il film mi hanno comunque fatto ridere o sorridere. Poi, mentre ci ho pensato nei giorni dopo, ho detto, però cavolo. Eh, diciamo così, non era così palese come il drago. Il drago fa ridere solo perché è grasso. Esatto. Quindi lì potresti dire, ok, non è proprio bellissimo. E anche lì, cioè, io ho riso, effettivamente, perché comunque noi che ci aspettiamo, che da giocatori ci aspettiamo sempre i draghi come super epici, super fighi, che fanno paura e tutto quanto, il fatto che questo drago devi avere più paura, che ti schiacci col suo peso rispetto al fatto che possa tirare una fiammata e uccidere tutti, fa ridere come cosa in quel contesto, in quella scena. Però fa ridere come cosa perché lo usa come arma il drago, non è soltanto perché si muove per errore mentre è addormentato, cioè il drago tenta di schiacciare la gente perché sa che il suo vantaggio è il peso. Sì, però comunque anche lì tante scene sono costruite per prendere in giro, cioè la scena in cui tipo rimane in mezzo appeso e non riesce più a salire sulla cosa, cioè dai. C'è una cratura enorme, si mette una tarta a ruga in quella stessa situazione, si muove nello stesso modo. Non sto dicendo che Hasbro, Paramount, in generale gli sceneggiatori del film sono i male in persona e che abbiano cercato di fare body shaming sulle persone. Sto dicendo che in una società che sta sempre più attenta a questi temi, Hollywood non ci è ancora arrivata. Comunque, volevo dire una cosa, secondo me il problema grosso di quella scena di cui parlavi prima, di Olga e di suo marito, è che quella scena lì non ha peso non per le inquadrature o nel mod, perché secondo me non ti volevano neanche far ridere per la differenza di stazza, è che quella scena lì dovrebbe costruire il personaggio di Olga come quello che, cioè dovrebbe fare il setup del personaggio di una persona che deve rimparare a fidarsi degli altri, che deve costruire legami duraturi. Però uno non lo fa, perché lei è quella che nel gruppo ha più legami con tutti, cioè guardi i dialoghi che fa, parla con tutti, non è silenziosa, fa battutine a tutti, tutti rispettano le sue battutine, quindi lei non ha problemi con il gruppo, è l'errore numero uno. L'errore numero due di quella scena è che avviene dopo che loro hanno già accettato la cast, non è per presentare il personaggio di Olga, la presentazione del personaggio di Olga l'abbiamo già avuta con la scena delle patate nella prigione, e quindi era già fatta. Ormai l'avevi già lanciato i personaggi in corsa, non puoi aggiungere come bit narrativo della crescita del personaggio una cosa che rifà il setup del personaggio. Esatto, cioè, secondo me l'ho percepita così perché mi è sembrata una scena a caso. Perché non aveva nessun altro senso, sono d'accordo. Cioè, loro ormai sono partiti e tutto quanto, decidono di fermarsi lì, ovviamente alla fine a livello funzionale la scena è soltanto perché lui le deve ridare il suo bastone da passeggio che poi si scopre che è il bastone del cui era. Capito? Che potevano farglielo trovare in qualsiasi altro modo quel bastone. Hanno messo questa scena che, come dici tu, secondo me è scritta male in generale ed è per quello che poi uno può anche percepirla in quel modo. Sì, il personaggio secondo me ci stava metterla perché faceva ridere il loro rapporto ma doveva essere usata per fare qualcos'altro. Ma è che quel personaggio effettivamente così diventa solo una macchietta perché già è un ognomo che non è un ognomo. Perché non è un ognomo, come dicevamo prima hanno preso un umano, lo hanno rimpicciolito con gli effetti speciali e l'hanno piazzato lì. Tra l'altro potrebbe essere anche un alfling. Non ha niente di un ognomo. Potrebbe anche essere un alfling. Però non ha niente, cioè capito che se vai a guardare il manuale e i tratti sono molto più caratteristici di così, invece lì hanno proprio preso un umano e l'hanno rimpicciolito. Quindi già di per sé a livello caratteristica, a livello di caratterizzazione fisica proprio non ha niente. Soltanto il marito traditore di fatto. E in più appunto non ha niente anche a livello di caratterizzazione. Sì, è un po' inutile e di fatto quindi sembra che sia messo lì soltanto per far ridere. E secondo me tira fuori anche un altro grosso problema che è che sono così tutti i personaggi. Di fatto tutti i personaggi, protagonisti e non, hanno una caratterizzazione sbagliata che non si fa tempo ad approfondire che è super cliché. Ma non è super cliché di Dungeons & Dragons, è super cliché per i film del genere. Il protagonista è quello che deve decidere di abbandonare l'idea di risuscitare la moglie perché è un peso che lo trascina in basso e accettare che su quello ha fallito. E quindi usare per qualcosa di positivo. Però di fatto poi il finale quando salva Olga fa la stessa identica cosa. Quindi non c'è stata una crescita. Il druido non si capisce bene cosa stava combattendo per la foresta. Poi per tutto il film praticamente si dimentica di combattere per la foresta. E non ha nessuna soluzione finale su quello. Olga non ha nessun setup, non ha nessun problema, non ce l'ha all'inizio, non ce l'ha alla fine. Finito lì. Lo stregone è l'unico che ha una linea narrativa. La decente in realtà sono, sì, Simon, quindi lo stregone, Ed, quindi il protagonista. E vabbè, dai, c'è nel senso... Perché lui è il personaggio che deve decidere di abbandonare il passato per accettare il futuro. Ma non c'è niente, cioè lo sta già facendo. Beh, in realtà è il personaggio che deve tornare a credere nel passato. Deve tornare ad essere arpista, fondamentalmente. Sì, ma, cioè, sta già facendo cose buone, l'ha già deciso, gli dicono il colpo. Lui dice, no, il colpo è troppo pericoloso e poi accetta di farlo per motivi egoistici. Però ci crede ancora che fuori tutti i suoi compagni stiano facendo quello che lui gli aveva detto di fare, stiamo proteggendo la figlia e tutto. Poi subito la figlia dice, non c'è neanche il dubbio che non vada a prendersi la figlia. Non c'è neanche un momento in cui dice, ma forse vive meglio con lui. No, va a prendersi la figlia. Quello che avrebbero dovuto fare è dire, no, mia figlia sta bene con lui, rubiamo solo la tavoletta. Avevano risolto la trama. Cioè c'era una dicotomia tra il fatto che il cattivo diceva alla figlia le cose corrette, no? Perché il padre era lì soltanto per rubare la tavoletta. Perché magari il padre dice, guarda, cioè io non sono stato capace, io non c'ero per questi due anni per mia figlia. È cresciuta, è cambiata, non mi riconosce più. C'è questa scena un po' imbarazzante in cui si vede che hanno una distanza. Forgia sembra che la stia trattando meglio di come la stia trattando. Lui dà la scelta alla figlia, ascolta, ma vuoi venire con me? La figlia gli dice di no, lui rinuncia alla figlia e decide di rubare la tavoletta a Forgia. Così riesce a rubare la tavoletta a Forgia e quando Forgia incontra la figlia e gli dice guarda che è avvenuto soltanto per rubare la tavoletta, non ha mai voluto prenderti veramente, funzionava come cosa. Invece così lui sta già facendo una cosa positiva, sta già tentando di riprendersi la figlia. Quindi poi il momento in cui decide di risuscitare Olga è stato, capito? Le han tolto valore perché in realtà lui ha già scelto la figlia. Ho capito il discorso a livello di costruzione del personaggio. Stavo pensando che in realtà, cioè anche Olga, in realtà a me sembrava che comunque avesse una storia in sua legata appunto al legame con la ragazzina. Però sì, di fatto alla fine anche lei, cioè a livello di costruzione del personaggio, di problema del personaggio eccetera, non quadra. Perché lei ha già trovato il suo nuovo ruolo, che è la madre o sorella maggiore per la ragazzina. Sì, è solo una questione di riconoscimento forse. Un esplicitare quel riconoscimento poi attraverso la scelta finale del salvare lei al posto della moglie. Mantenevano la stessa linea comica, perché stavo pensando appunto come si può migliorare con gli elementi che ci sono già. Se Olga, invece di avere una sua storia, fosse stata il mentore. In tutti i fantasy c'è la figura di Gandalf. Qui avrebbe fatto morire da ridere che il barbaro del gruppo è il mentore, perché lei ha già capito che la cosa importante è far crescere sta cacchio di figlia. E se gli avesse detto, guarda che tu sei ancora ossessionato col tesoro, non stiamo andando lì veramente per la figlia, no? Ma sei sicuro che stiamo andando lì per lei? Perché lei sta vivendo meglio. E così c'era interessante il mentore che ha torto. E quindi deve riconoscere che ha torto. E dall'altra parte è interessante che il bambino prodigio, che in questo caso è il bardo, no? Deve riconoscere invece che aveva ragione lei. Cioè era un po' più interessante come dinamica e funzionava uguale. Comunque, passando ad altre robe che non mi hanno fatto impazzire, nei combattimenti il bardo non esiste. In generale il bardo non esiste. Nei combattimenti il bardo usa il suo strumento musicale per menare le persone e non fa incantesimi. Sarebbe stato fichissimo. Cioè l'unica volta in cui ho pensato, boh magari questa è un'ispirazione bardica, è proprio all'inizio, inizio, quando a un certo punto c'è Olga che sta menando, lui è lì fermo che si sta ancora liberando dalle corde e le dice tipo, ce li abbiamo in pugno, eh? E ho detto, ah, questa sembra l'ispirazione bardica e poi lei inizia a menare più forte. Però, a parte quello, cioè che poteva essere semplicemente anche una mia percezione e basta, in realtà non lo fa mai. Ed è un peccato. E io, infatti, è per questo che mi arrabbio così tanto con alcuni film, perché bastava un passettino in più. Hai ragione? Facci vedere un minimo di, tipo, note magiche che gli escono dalla bocca, qualcosina. Quando parla con la figlia e tenta di convincerla, fai vedere che un minimo il liuto si illumina. E lasci sempre il dubbio che lui ogni volta che parli stia istintivamente usando la sua magia. Sì, le classi in generale forse non sono così fondamentali. Anche, per esempio, Olga. Sì. È un barbaro. Sì. Mena di brutto è ok, ma potrebbe tranquillamente essere un guerriero. Non ha mai ira, per esempio. E per me non doveva urlarlo come se fosse un anime. Bastava far vedere una scena in cui si carica, no? Si gonfiava, sì. Oppure una scena in cui lui, tipo, il bardo gli diceva Dai, 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 sì, 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 sì. Esatto. È un tipo giocatore di football, no? Sì, perché in generale giocano sempre su questa roba che è meglio non farla arrabbiare. Michelle Rodriguez è molto brava a comunicare anche solo con lo sguardo quando Olga si sta incazzando, eccetera. Però sì, cioè, non è lo stesso concetto di ira. Cioè, anche un guerriero può essere molto determinato nell'andare a menare qualcuno. Però non è in ira, non è la stessa cosa. Perché non esistono le regole dei personaggi nel mondo. E non ho capito perché hanno fatto questa scelta quando regole del resto ci sono. Cioè, le regole di come funziona un cubo gelatinoso, una bestia distorcente, un mimic, ci sono tutte. Agli incantesimi come funzionano? Ci suonano verbale, somantico e i componenti. Sono stati i più bravi con Simon e Doric. Quindi lo stregone e la druida in quel caso sono stati più bravi. Perché vabbè, la druida effettivamente c'è tutta la scena iniziale dell'inseguimento in cui lei continua a trasformarsi che è molto figa. Sì. Anche se, vabbè. Si trasforma, ho capito? Ma ti costa, ti costa. Tra l'altro lì ti costa meno. La lasci dopo per una trasformazione in più. Perché Emilio e Fra hanno contato quante volte si è trasformata. Dicevano impossibile che si trasformi così tante volte. Troppe volte si è trasformata. Boh, non c'è nessun talento che permette questa cosa. Però ho capito che rispetto al scegliere di non sfruttare proprio tutta una classe del bardo. E dire, vabbè, l'hanno fatta trasformare una o due volte in più, dico chi se ne frega. Sono d'accordo. Cioè, proprio cercare il pelo nell'uovo. Sì. E l'altro che secondo me hanno usato bene è lo stregone. Perché mi piace anche il fatto della componente del caos. Sì. L'hanno proprio esplicitato. Perché non si poteva basare sul dado e il personaggio è basato sul fatto che quando fai 20 succedono cose strane. No, quando fai 1 succedono cose strane. Lì invece lui può praticamente potenziare gli incantesimi con il suo focus arcano e quando lo fa gira la ruota e succedono effetti casuali. Quindi quello è carino. E tra l'altro mi è piaciuto. Di solito quella cosa lì diventa quella che il personaggio deve risolvere, no? La magia è caotica e man mano che impari ad usarla è sempre meno caotica. Invece lì rimane dall'inizio alla fine. Almeno quello l'hanno tenuto costante. Infatti lui inizia ad usare i bastoni e gli oggetti magici per evitare questa cosa. E in generale appunto positivo su Simon, a me il suo arco è piaciuto veramente tanto, forse il vero protagonista di questo film. Perché alla fine è lui che deve imparare ad accettare se stesso, ad accettare la sua magia, ad andare oltre ai suoi antenati, al nome dei suoi antenati e secondo me lui ha scritto bene come personaggio. Sono d'accordissimo e capisco anche gli sceneggiatori da questo punto di vista perché facendo anche io nel fumetto dei corvi della notte è veramente difficile tentare di mettere un protagonista e dire questo è il protagonista. Proprio D&D è fatto così e quindi un po' paghi per questa roba. Ma il paladino, Zenk, il paladino è fenomenale. Il paladino è come dovevano fare tutti i personaggi perché invece di essere un cliché della Marvel, è un cliché di D&D, è il paladino fatto tutto di un pezzo che funziona anche un po' per il bardo, per il protagonista, no? Che è il bardo affabulatore però non l'hanno portato fino all'estremo. Qui invece è proprio il paladino, funziona sempre come il paladino, capisci cosa può fare, cosa non può fare, quindi funziona. Capisci che è un livello molto più alto di tutto il party e poi se ne va. Però questo stiamo passando ai punti positivi, c'erano altri punti negativi da dire. Ok, scusami. Quindi lo riprendiamo tra pochissimo. No, l'ultimo punto a sfavore che ho segnato è la soluzione finale. Madonna. Di lanciare il tesoro dalla mongolfiera per far scappare le persone. Mamma mia. Non ha senso per niente. Kill me. Cioè, la scena è, c'è questa pazza che sta radunando nubi e ormai le nubi hanno già iniziato ad uccidere le persone all'interno dell'area. Quindi non è neanche che si stanno radunando e la gente non se ne accorta. Ma poi la nube non uccide le persone, le trasforma in zombie. Sì, ok. Quindi cioè, se vedi, magari dici vabbè è un effetto speciale, ma quando vedi la gente che inizia a girarsi a divorare gli altri. Ma infatti c'è il punto che per quello non funziona, cioè, se fosse stata la scena, le stava ancora radunando ma la gente era troppo presa a guardare i giochi e quindi noi li distraiamo e li facciamo uscire fuori dallo stadio e quella quando si ritrova lì con tutte le nuvole radunate e iniziano a scendere i raggi, non c'è più nessuno e lei dice ma che cosa sta succedendo? Avrebbe funzionato un pochino meglio. Ma qui... Fai vedere che lei ha gli occhi... L'aveva già fatto! E questo è sono... E che bastano dettagli piccoli. Fai vedere che lei, la cattiva Sofina, ha gli occhi ribaltati per fare l'incantesimo perché non è il suo master, non è il super stregone, quindi non è così potente. Glielo fai anche dire... Poi parliamo di Sofina perché è un altro tasto dolente. Loro non potevano farle dire cose perché lei non è un personaggio. Lei non parla, è una trama vivente quindi non potevano fare questa roba qui. Ma lei magari parlando con il suo mentore malvagio diceva ma io non sono così potente, non so se ce la farò. E poi fai vedere che lei perde la vista mentre lo fa. Che l'incantesimo è talmente potente che le causa un danno. Quindi lei non sa cosa sta succedendo. E quindi puoi far vedere la scena in momenti temporali diversi. Lo fai dal punto di vista di Sofina e sembra che la nube stia avendo effetto e quando ti giri dall'altro lato fai vedere che i protagonisti in realtà sono già riusciti a portare fuori la folla e solo due o tre persone sono state colpite, no? Quindi era fattibile. Perché dal punto di vista della scelta del party comunque all'inizio ho detto ma che cavolo, ma che cavolo di soluzione è e poi dopo nei giorni successivi pensando c'è detto beh però è molto D&D. Cioè anche i nostri party quando sono in una situazione disperata si inventano la soluzione più stupida che uno, cioè a pensarci dopo dice ma con tutte le cose che potevi fare perché quella? E ci inventiamo le cose più strane. Però appunto l'avessero costruita in un altro modo la scena avrebbe anche funzionato. Sì, tra l'altro io ero molto contento fino a quel punto perché c'è tutto un problema sul terzo atto nei film d'azione dove ormai le modifiche dei personaggi ci sono stati al culmine del terzo atto, no? Tutti sono felici e contenti, tutti hanno ottenuto quello che vuole e c'è soltanto di dimostrare che sono cambiati i personaggi che è la parte che a me annoia sempre di più perché sai già come andrà a finire con il buono e il cattivo che si scazzottano e che questo dimostra la superiorità morale del buono. Qui l'hanno fatto veramente in fretta, io stavo dicendo guarda ce l'hanno fatta, per una volta ce l'hanno fatta, vanno giù in fretta in fretta in fretta e poi ho visto sta cagata dello stadio completamente montata male, editata male tutto un problema di CGI e montaggio ho detto no, cioè ci stava, il combattimento è veloce ve lo facciamo solo perché così c'è un combattimento figo dove loro finalmente lavorano assieme dove tutti hanno risolto i problemi ve lo facciamo vedere solo perché è bello da vedere mi stava bene e poi c'era il momento finale con Olga che con le modifiche che ti ho detto avrebbe anche avuto senso cioè lui lì in quel momento decide finalmente che è più importante la sua nuova famiglia di quella vecchia ma tra il fatto che i personaggi sono deboli la trama è debole il fatto che c'è sta roba qui il finale mi ha proprio lasciato con l'amaro in bocca hai altri punti... Sofina ok mamma mia il cattivo io c'è c'è tutta una corrente moderna di sceneggiatura che si basa sul fatto che quando è un cattivo interessante puoi permetterti di fare cose che normalmente non potresti permetterti di fare in una storia tradizionale un esempio i fratelli Coen non è un paese per vecchi il cattivo è estremamente interessante ogni volta che compare c'è tensione in scena perché non sai quello che succederà perché è un totale psicopatico però ti interessa sapere le sue motivazioni è super competente quindi ti interessa anche vedere come ammazzerà le persone come farà le cose questo gli permette di fare un film che se no non si reggerebbe in piedi D&D anche lì sarebbe stato meglio questo film con un cattivo che funzionasse bene con un cattivo interessante ho capito che era una maga rossa del Thai però dagli due motivazioni era anche interessante il fatto che i cattivi avessero fatto un colpo di stato nel loro mondo e lei era stata strumentale per il capo cioè poi ti crea tutta una relazione su quello fare un suo piccolo arco narrativo in cui lei si sente insicura in cui lei non ha il potere e quindi fallisce per quello perché è lì ma non dovrebbe essere lì e D&D è stata mandata lì per la politica del Thai in cui se sali troppo di potere mi immagino ma sali troppo di potere il dittatore tenta di farti fuori cioè potevano espandere il world building fare cose carine e reggere la trama sul suo personaggio invece è... lei è cattiva è palesemente cattiva perché? perché ha il trucco sotto gli occhi non fa niente di cattivo fino alla fine esplicitamente però abbiamo già parlato nei nostri episodi sui cattivi in cui devi fare qualcosa di malvagio non puoi lanciare un blocco temporale mette il dito nel tè mette il dito nel tè che è maleducata lancia il blocco temporale poi sai che è cattiva perché mormora frasi arcane sottovoce nella stanza che fa morire da ridere andava tutto bene cioè il tipico NPC che metti lì dici per te è palese che è cattivo come dungeon master il party se ne accorge solo quando ti pugnala alle spalle ci sta però avevi quella scena in cui si vede l'anima del suo mentore che le parla potevi fare qualcosa in più ci voleva così poco così poco passiamo a un po' di punti a favore per quanto mi riguarda allora io ho trovato divertente l'escamotage iniziale per raccontare tutto il background di Ed in modo condensato sì ok l'ho trovato divertente perché innanzitutto perché è simile a ciò che facciamo all'inizio di una campagna cioè i giocatori costruiscono il background e non ce la fanno ad aspettare che sì cioè non ce la fanno ad aspettare che pian piano tutto il party scopre le loro cose no devono dire tutto subito e quindi vengono interrotti ma vanno avanti l'inizio mi aveva fatto sperare così bene mi stava piacendo così tanto che c'è la prigione loro che entrano nella prigione la battuta col mezzorco l'orco poi l'aracocra che tentano di aspettare quanto mi ha fatto ridere il pezzo in cui lui ricomincia a raccontare e ricomincia da un po' più indietro di dove era arrivato detto è geniale sì esatto io ho adorato quel pezzo e poi l'altra cosa che mi è piaciuta di questo escamotage è che con il fatto che sta parlando lui con delle persone che vuole convincere a liberarlo noi non sappiamo quanto di quel background sia vero poteva essere anche lì non c'ha poi non c'ha più giocato poteva essere tutto finto esatto io ti giuro ho pensato al inizio è tutto finto in realtà non è vero che gli è stata sterminata cioè sterminata la famiglia non è vero che gli hanno ucciso la moglie non è vero che la figlia è stata cresciuta cioè non è tutta una storia strappalacrime che ha fatto perché deve convincerli a liberarlo in realtà è un pezzo di merda bardo classico quella poteva essere un'altra costruzione del personaggio io all'inizio pensavo fosse così anch'io ma non è Ocean Eleven e quindi non si può fare una cosa del genere no però è stato molto bello quell'escamotage mi è piaciuto e questo è anche uno degli esempi di cui parlavamo nella parte senza spoiler della racocra e di come funziona cioè di come c'è un dungeon master dietro alla scena perché loro si liberano buttando giù la racocra risfruttando il fatto che lui si vuole salvare che mi ha spezzato come cosa è vero e nell'ultima scena Forgia tenta di liberarsi nello stesso modo sbatte contro e anche lì sono robe che cioè ti fai come dungeon master tieni la continuity no e cambi quelle due o tre cose che fanno morire è vero questa è una delle tante scene super divertenti che funziona poi vabbè citazioni astrezzate d'occhio ai giocatori la scena del cimitero io penso di non aver mai riso così tanto al cinema ok l'ho trovata una delle più divertenti perché appunto è successo un sacco di volte a tutti di avere a disposizione solo un tot di domande e di sbagliarle tutte e poi oppure di di prendere degli NPC che non sono veramente utili e quindi di trattarli come lo schifo ma allora se non ci serve fa niente passiamo al prossimo quanto ha fatto ridere lo scheletro che ha detto quella mattina mi sono alzato e sono scivolato ho sbattuto la testa contro la vasca e poi sei andato nel campo di battaglia e cos'è successo all'elmo no sono morto nella vasca non l'hanno dato a me ho detto è fantastico è bellissimo quella scena appunto è una di quelle che dicevo che va a costruire sempre di più in un escalation di risate cioè tu dici ok vabbè ti aspetti no abbiamo solo 5 domande ti aspetti che le sbagliano praticamente tutte che bruccino la prima occasione succede succede scritto bene perché è intelligente non è soltanto che fa domande del cacchio esatto fa delle robe poi è insicuro e quindi mette la domanda alla fine e lui dice oppure addirittura si fanno domande tra di loro esatto cioè capito che lì avevano capito come funziona l'incantesimo e poi lo sceneggiatore si è chiesto ma perché questo incantesimo devi cioè puoi girare puoi fare domande al party e puoi girarti e fare cioè qualcuno ha giocato veramente a dnd perché di solito ti giri fai domande al party ti rigiri verso il non morto e gli chiedi cose qualcuno l'ha ascoltato e ha detto ma scusa lui sta facendo delle domande l'incantesimo dice che poni delle domande vero e quindi risponde anche alle domande fatte tra di loro esatto bellissimo si della serie che domande facciamo prima domanda andata beh lì era cos'è che gli dice tipo ah quella contava come una domanda lui fa sì esatto no infatti quella è molto bella però appunto poi una volta successa questa cosa dici vabbè adesso ci sarà la parte seria in cui trovano invece no va avanti e va avanti e va avanti e dura diversi minuti e per diversi minuti c'era tutta la sala che si sconfisciava dalle risate un'altra parte che mi ha fatto molto ridere che è molto meme di D&D è quando Zenk ha finito di aiutare il party e se ne va e va dritto vedi quello allora quello è il motivo per cui tutto il resto mi fa arrabbiare così tanto perché tu sai come funziona un paladino in D&D sai che quando lo giochi hai una certa forma mentis e quindi dici no no mo non si sposta mo non si sposta mo non si sposta e quando succede ti fa ridere esatto esatto capito? esatto che sai le regole quindi capisci cosa succede nel mondo infatti sono tutte le scene costruite così che sono state costruite veramente bene e ce ne sono tante però quindi per quello che io l'ho trovato comunque un film che mi è piaciuto perché è successo diverse volte nella mia testa che ho detto adesso succede questa cosa e anche il ponte spiegava tutte le regole e vedevo dicevo adesso succede questa cosa adesso succede questa cosa la scena nel sottosuolo lo so che l'avete visto però magari qualcuno sta ascoltando senza averlo visto c'è una scena nel sottosuolo e c'è il paladino che c'è già passato quindi inizia a spiegare le regole per camminare sul ponte evitando le trappole e evitando di far crollare il ponte sono regole molto complicate la scena avanti per un po' e nel frattempo vedi Simon lo stregone che pian piano si avvicina al ponte e tu sai che fa per mettere un piede più avanti perché succede sempre così mette il piede il ponte crolla e devono trovare un altro modo esatto e però cioè tu per tutto il tempo sei lì che pensi adesso minimo lo fa minimo lo fa minimo lo fa e quando lo fa ti fa morire dal ridere cioè il concetto di suspense ma applicato al film comico è perfetto e funziona bene perché conosci Dungeons & Dragons quindi conosci le regole esatto poi un'altra cosa che ho apprezzato molto come dicevo già prima è stato l'inseguimento con le varie forme selvagge a me ha gasato tanto e mi ha fatto venire voglia di giocare un druido sembra più un druido nuovo tra l'altro eh sì esatto esatto che non deve preoccuparsi di che animale sta giocando perché tanto ha tutte le forme esplocate oddio potrebbe essere quello ma te l'ho detto io alla fine quando voi lo criticavate io vi dicevo secondo me hanno già applicato le regole di one day and day ok ok devo fare ho capito male cosa intendevi è perché è cambiato anche il numero di volte che ti puoi trasformare quindi pensavo che tu pensassi al numero no è il nuovo druido è perché non si deve preoccupare cioè se passa da topo acerbiato è la stessa forma tanto rimanno non uguali le statistiche hai ragione lo so scusate ritiro quello che ho detto prima sul druido il druido è un altro esempio che fa ancora più incazzare il bardo però perché per gli altri personaggi qualcosa hai fatto e il bardo è deciso di non dargli magia allora perdonami eppure il protagonista eppure l'unico che ha una classe inutile ma magari la sua classe non era il bardo magari non è una classe era quella la battuta magari perché canta male quindi magari è semplicemente un popolano normale cioè quello che pensavo io adesso questa cosa la devo scoprire perché se è così impazzisco magari l'idea di base è che lui era l'unico NPC tutti gli altri erano un party e lui era un NPC che si portavano addietro e di cui stavano facendo la storia no se è così impazzisco perché io mi aspetto che ci sarà un sequel comunque di sicuro e non c'è più lui e c'è il resto del party secondo me nel sequel tra l'altro riprenderanno la storia della druida e di quello che stava succedendo no perché era Forgia ti dicono no perché era Lord Forgia che stava sboscando gli alberi ok no nel sequel ci sarà di sicuro il grande stregone cattivo e la sua banda di Boy Scout però se il sequel fosse fossero loro quattro senza di lui no aspetta quanti sono uno due tre uno due tre beh il paladino lo contiamo anche il paladino spuccherà fuori di nuovo ci starebbe che sostituiscono il personaggio di Chris Pine il bardo con la figlia magari mamma mia questa cosa facciamo così troviamoci su un terreno comune visto che è il primo film che mi fa ridere al cinema sì cioè per cui è comico a me non piacciono i film comici di solito non li vado a vedere quindi ogni tanto magari ridacchio per una battuta fatta in un altro film ma questo è il primo dove rido per un intero atto dall'inizio alla fine quindi sono disposto a dargli l'onorevole dubbio sì che l'idea degli sceneggiatori fosse quella cioè fosse facciamo questa cosa divertente vediamo se si vede lui è l'MPC e gli altri stanno seguendo la storia dell'MPC non vale comunque è comunque scritto male il film però possiamo non lo so questo diventerà il mio canon diventerà il mio canon e ci penserà con un po' più di affetto almeno vado a vedere il secondo film esatto no vabbè io avevo anche altre cose da dire ma ormai stiamo stiamo andando per le lunghe quindi in realtà direi che siamo molto curiosi di sapere come lo avete percepito voi se siete d'accordo con le cose che abbiamo detto se avete notato altri punti a sfavore altri punti a favore se in generale vi ha divertito o vi ha fatto schifo e tutte queste cose potete dircele innanzitutto nel gruppo della community che abbiamo su discord non dire draghi che trovate in descrizione dove ci sarà Emilio ad accogliervi e poi appunto tutti gli altri della community oppure se volete chiacchierarne con me potete scrivermi in privato su Giada di ruolo su instagram così messaggiamo a riguardo e sono molto curiosa anche di sapere se sono state rilasciate delle interviste dagli autori perché adesso voglio scoprire questa cosa no non è vera Giada non lo so non lo so secondo me tra qualche mese che non sia il bardo la sua classe che sia il ladro a un certo punto io ci ho pensato perché alla fine cioè alla fine non è che perché uno ha uno strumento musicale ogni tanto canta è il bardo di fatto non lo mostrano mai che è il bardo ed è anche sicuramente un ladro riferiscono l'uno con l'altro con i nomi delle classi spesso stregone paladino quindi secondo me lo chiamano bardo un paio di volte io non mi ricordo questa cosa sì sì cioè che si chiamano tra di loro e sono sicuro non mi ricordo se lo chiamano esplicitamente il bardo vabbè andrò a rivederlo sì no ho il posto di sì prima di accorgermi cosa sa e io andrò a rivederlo andrei a rivederlo io vado a vedermi John Wick 4 va bene direi che per oggi è tutto noi vi aspettiamo giovedì sull'altro nostro podcast storie di vapore dove uscirà la sesta puntata di questa stagione mentre lunedì prossimo che è il 10 aprile lunedì di Pasquetta non uscirà l'episodio su questo canale due draghi al microfono perché noi ci prendiamo una breve pausa per finire di montare tutti i mobili e soprattutto lasciamo a tutti la possibilità di fare grigliate e sessioni in compagnia quindi noi ci sentiamo in realtà tra due lunedì su questo canale perché lunedì non è mai stato così avventuroso a tutti i mobiliate un'episodio che ci sentiamo Grazie a tutti.